Con appena 14 voti di scarto a Capolona viene rieletto per il secondo mandato il sindaco uscente Mario Francesconi, appoggiato dal centro-destra. 1.171 i voti di Francesconi, pari al 47,93%, contro i 1.157 dell'avversario Sario Dini, al 47,36%. 3. Andrea Paoloni, che raccoglie 115 voti, 4,71%. Ascoltiamo le parole del neosindaco. Senza dubbio la conferma ha una maggiore valenza rispetto alla prima nomina perché chiaramente è una conferma di un operato di 5 anni nei quali abbiamo cercato di dare il nostro meglio. La nostra cittadinanza ci ha voluto premiare di questo la ringrazio e quindi dà ancora maggior valore perché in gioco c'erano altre due liste, delle quali una molto rappresentativa anche per Capolona e soprattutto ha condotto una campagna elettorale un po' troppo aggressiva, dando solamente addosso a noi e non proponendo nulla e fortunatamente la popolazione ha premiato chi propone e non chi distrugge.